Nessun taglio di un milione di euro è stato disposto dall'amministrazione comunale di Barletta sulla dotazione finanziaria della Multiservizi Barsa. A chiarirlo con un comunicato è il commissario prefettizio Anna Maria Manzone, dopo la notizia apparsa nei giorni scorsi circa la paventata ingente riduzione delle risorse destinate alle attività di manutenzione straordinaria di competenza del personale della Barsa. È necessario invece sottolineare, ha precisato la dottoressa Manzone, che intendimento dell'amministrazione è confermare la quantità di risorse già attribuite nell'esercizio 2012 nell'ambito della programmazione del bilancio 2013-2015, salvaguardando da un lato gli equilibri di bilancio e dall'altro la pressione tributaria e tariffaria che graverebbe su tutti i cittadini barlettani. L'ecito invece domandarsi, prosegue la Manzone, poiché è ancora in corso di definizione la programmazione 2013-2015 da quale documento ufficiale sia stata estrapolata tale infondata notizia, la cui diffusione genera allarmismo ingiustificato e si discosta dall'invito alla totale salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Ma intanto i sindacati di CGL, Cisle e Will, dopo le procedure di cassa integrazione e l'avvio dei contratti di solidarietà, oltre al paventato e a questo punto infondato taglio di un milione di euro alle risorse della multiservizi, sembrano voler confermare lo stato di agitazione dei lavoratori della Barsa organizzando un'assemblea sindacale sotto la prefettura in data mercoledì 24 aprile.